Bene, ma eccoci qui in un altro episodio in cui andiamo a commentare le vostre foto. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia e ogni tanto dispenso pareri un po' come se fossi un giudice di X-Factor. Dispenso pareri sulle fotografie che voi mi inviate per ricevere una sorta di recensione del vostro portfolio. Andiamo a vedere insieme che foto avete fatto, andiamo a vedere le foto che mi mandate e io cercherò di darvi il mio parere dicendovi come secondo me le foto si sarebbero potute migliorare. In certi casi vi dirò che non si poteva fare niente di più di così e che sono perfette, in certi casi vi dirò che secondo me si poteva fare qualcosina di più. Prendete con le pinze quello che dico perché io non sono uno dei giudici di Masterchef quindi non è che devo darvi le pagelle, dico semplicemente la mia opinione. Al momento gli ardimentosi che si cimentano su questo percorso a ostacoli devo dire sono abbastanza numerosi nonostante il mio canale sia ancora relativamente piccolo. Se volete darmi una mano a farlo crescere il bottone iscriviti è proprio qui sotto, i like a questo video non sono solo per me ma sono per tutti quelli che presentano il loro materiale stasera per cui avanti con quei pollici. Molto bene ma partiamo subito con un account che io conosco bene quindi Emiliano Monopoli, andiamo a vedere, andatevi a vedere il suo account di Instagram perché secondo me ci sono delle cose molto interessanti, partiamo con la prima immagine. Allora Agriturismo i Cipressini, insomma a me piace questa roba, io amo la Toscana, ci sono andato in vacanza una volta in realtà perché sono stato in gita scolastica e poi da solo, cioè da adulto diciamo ci sono state una volta sola, quindi diciamo che amo moltissimo questi posti ma non posso dire di conoscerli bene. Quando li vedo la cosa mi piace sempre molto. La foto in questo caso è bella, non ho granché da dire, io vedo che i Cipressi sono dritti e quindi credo che questa villa mi sembri un pochino storta per via della piega che prende la collina. La foto in realtà mi sembra corretta perché le verticali sui lati sono dritte, quindi anche se la casa non mi sembra drittissima, credo che sia corretto così, la strada ci porta piacevolmente dentro nell'immagine. Io conosco l'account di questo fotografo, so che lavora abbastanza bene quindi non avrò tante pulci da fargli. Andiamo alla seconda immagine, allora qui io vi posso dire che su queste prime ore del mattino con la sua Nikon D7500 ha fatto uno scatto molto suggestivo. L'unica cosa, l'unica che a me non fa impazzire qui sono, vedete qui, puntini minuscoli, le lucine sulla facciata di quell'edificio che credo essere una chiesa, una abbazia, insomma qualcosa, un monastero, non capisco bene. L'unica cosa che non mi fa impazzire sono quelle lucine che sono un pelino bruciate. Per il resto lo scatto è magico perché qui abbiamo appunto le prime ore del mattino con delle luci meravigliose. Non so come sia stata scattata però è veramente un attimo molto bello quindi io qui posso starvi a dire che io avrei fatto un HDR ovviamente per avere quelle lucine sulla facciata non bruciate però è veramente il capello. Abbiamo anche un po' di bianco e nero. Come sapete io non sono tanto fan del bianco e nero perché secondo me spesso viene usato a sproposito. In questo caso ci sono dei chiaroscuri, c'è una composizione che secondo me può farlo funzionare il bianco e nero. Ci sono degli uccelli che sono stati colti in volo, che sono disposti in delle posizioni che vanno anche bene, contribuiscono alla composizione. Quindi in questo caso avrei voluto magari vedere qualcosina in primo piano, mi sarebbe piaciuto avere un soggetto un po' più forte. In questo caso diciamo che il soggetto è la malinconia, la nebbia. È una foto che secondo me può comunque funzionare. Qui apriamo tutti quanti il cuore alla magia della Toscana perché abbiamo un campo con tre campi sovrapposti, abbiamo delle nuvole molto molto aggressive in cima. Io questa avrei voluto, lo so che per Instagram non va bene, ma avrei voluto vederla orizzontale perché secondo me qui c'era da spaziare. Sull'orizzontale si potevano tirar fuori delle belle cose. Qui abbiamo delle cose che a me danno sempre tanta soddisfazione perché abbiamo un cielo esposto meravigliosamente. Guardate che bel panneggio e abbiamo una composizione con questo gabbiano in basso e con il canale che sembra portarci dentro nella scena, secondo me funziona molto. Il gabbiano è un pelino vicino al margine basso dell'inquadratura, quindi forse si poteva dargli un pochino di respiro in più alle zampette, tanto sopra c'è solo cielo. È veramente una cosa da poco perché per il resto direi che funziona tutto molto bene. E qui cominciamo con uno dei cavalli di battaglia del nostro fotografo perché io so che lui scatta tanta natura e so che scatta tante lunghe esposizioni. Quindi qui abbiamo un primo silk effect con questa cascata. Mi rendo conto a giudicare dalle luci che non era uno scatto facile perché qui abbiamo un contrasto, abbiamo la luce del sole che passa da sopra che rende difficile mantenere i dettagli su tutto quanto il fotogramma. La foto è buona, secondo me funziona molto. Qui abbiamo un gioco di luci. Allora in questo caso vi dirò, io qui non sto apprezzando la qualità della foto quanto piuttosto l'intenzione, perché qui c'è un gioco di luci che è molto interessante. Io qua non capisco a che ora del giorno è stata scattata, tirando a indovinare direi un tramonto, però la cosa che mi piace è che c'è un gioco di luci tale per cui abbiamo la luce dorata su un palazzo che fa sembrare l'ombra azzurra per contrasto. Quindi qui abbiamo l'idea, proprio il concetto. Visto che la fotocamera è palesemente sul treppiede, io presumo che questa sia stata scattata con lo smartphone, ma in questo caso è l'idea, è un selfie praticamente, è un autoritratto, è un autoritratto velato e quest'idea secondo me ci sta, funziona, anche perché abbiamo questa linea diagonale che ci divide l'immagine a metà che insomma fa un bel contrasto, fa da contraltare. Abbiamo anche la finestra e la panchina che in qualche maniera riempiono, completano il quadro. Non è un capolavoro, però l'idea ci sta. Ecco qui, questa qui è una foto che io, conoscendo un pochino questo profilo, questa è molto vicina allo stile di questo fotografo che secondo me lavora molto bene, in questi contesti lavora veramente bene, perché qui io ci vedo la pazienza, intanto di farsi una bella passeggiata, la giornata così nella natura, che è una roba che io invidio tantissimo, perché io qui a Milano mi devo fare un'ora e mezza di macchina per trovare una roba così. Io qui ci vedo la pazienza di trovare questo posto, poi magari sbaglio di dietro a casa sua, però io qui ci vedo la pazienza di trovare questo posto, sia che il tronco sia stato trovato in quella posizione, sia che sia stato messo lì, in ogni caso ci vedo la pazienza e la voglia di mettersi in gioco per tirare fuori un'immagine come questa, che come potete vedere è sostanzialmente perfetta, perché noi qui abbiamo l'esposizione giusta in ogni suo punto, le luci che filtrano attraverso gli alberi non sono bruciate, la cascata è perfetta, le ombre sono perfette, il colore è bello. Niente da dire, questa qui è una bella immagine, bilanciata, bella, non dico che sono invidioso e che avrei voluto farla io, però mi sarebbe piaciuto essere lì anch'io, perché queste sono immagini che funzionano. Il problema magari di immagini come queste è che sono un po' fini a se stesse, nel senso non c'è tanto racconto, cioè non è un'immagine per tutti secondo me, nel senso che se ti piace la natura, se ti piace questo tipo di contesti, l'apprezzi. Se sei uno che la natura non l'apprezza, una foto del genere può anche non dirti niente, il punto debole di queste immagini potrebbe essere questo. Qui abbiamo tramonto sul mare con una barchetta che chissà se è voluto che sia messa lì, comunque anche in questo caso mi sembra abbastanza azzeccata, c'è una cura nei colori molto bella, perché qui anche se abbiamo un po' di perdita di dettaglio, che ci mancherebbe? Cioè è il sole, non si può fare il sole con i dettagli non bruciati, è troppo potente, però qui io vedo una bella cura dei colori nel cielo, comunque secondo me c'è del lavoro dietro, è stata catturata in un certo modo con un intento, un'immagine come questa, anche nella composizione. Qui abbiamo anche un po' di natura, abbiamo un po' di macro, questo è uno scatto che io non riesco a capire se è stato fatto con un'ottica particolare. Allora, forse ci sono delle informazioni che mi sto perdendo, però mi sembra che lo sfocato sia un po' troppo, cioè per il punto di messa a fuoco che mi sembra di individuare, che è proprio sulla farfalla, non riesco a capire come mai le foglioline vanno così fuori fuoco, così in fretta. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che sia stata usata un'ottica particolare, magari un'ottica decentrabile di qualche tipo, oppure potrebbe essere un effetto aggiunto in postproduzione, oppure i rami erano disposti in quel modo e io mi sto facendo giocare un brutto scherzo dalla prospettiva. Però, quello che deve essere a fuoco è a fuoco, i colori sono belli. Magari non è una foto che vincerà un premio per il Wildlife Photographer of the Year a Londra, però è comunque una fotografia che funziona. Ecco, qui come vi dicevo abbiamo queste cascate sempre con l'effetto seta, che so che il nostro amico padroneggia in modo particolarmente elegante. Qui abbiamo tramonti con le nuvole, sapete che io impazzisco per i tramonti con le nuvole. Questa cosa di mettere le bande bianche, in questo caso vedete che può diventare uno stile e io apprezzo in certi casi... Allora, le bande bianche a me non piacciono, però è di Instagram il problema, perché uno mette le bande bianche non perché gli piacciono le bande bianche, ma per preservare il formato e questa cosa io l'apprezzo. Le bande bianche non mi piacciono, ma il formato sì. Nel momento in cui uno mette le bande bianche per preservare il formato originale con cui ha scattato la foto, a me sta bene, perché stava cercando di farmi vedere una cosa, aveva scelto un formato e voleva che io vedessi la sua foto con quel formato, quindi non mi piacciono le bande bianche, ma mi piace l'intenzione. Qui abbiamo qualche scatto di matrimonio, allora in questo caso è una scelta un po' sul chiaroscuro, un po' introspettiva, però ci sta e in particolare devo dire che quando la luce è giusta sulla sposa il resto va sempre bene, quindi secondo me ci sta. Ovviamente queste sono cose che vanno concordate con la coppia, è difficile fare foto di matrimonio, infatti io di solito lascio perdere, però se la sposa è contenta va sempre bene. Architettura, nuvole esposte bene, verticali dritte, Ferrari è contento. Qui abbiamo di nuovo macro con un bel, un bombice sembra, sì non riesco a vedere, io lo capisco dal sedere che cosa sono, questo sembrerebbe carino, carino, deve essere anche stato uno scatto parecchio difficile da fare perché vedo che c'è della vegetazione intorno. Ecco queste sono le composizioni ricche che la soddisfazione te la danno perché qui vedete che ricerca che c'è, qui c'è un framing con un ponte con un bellissimo arco con le cascate dietro. non sono foto facili da fare, ci vuole pazienza, è un po' come andare a pesca. Vedete cascate, campi, ora io non ve le faccio vedere tutte perché come già detto molte volte sono tante queste foto, quindi qui vedete di nuovo un bellissimo frame con la regola dei terzi, l'effetto seta sull'acqua, i colori perfetti, l'esposizione perfetta. Io non ho granché da aggiungere su questo portfolio perché sostanzialmente lo conosco, l'ho seguito da un po' di tempo, quindi vedo le cose che escono, so che c'è dietro uno stile ben preciso, so che c'è dietro un pensiero, una ricerca e probabilmente sono condizionato da questa cosa perché quando io vedo che c'è dietro una ricerca magari mi faccio piacere anche delle foto che normalmente avrei, passatemi il termine, scartato, me le faccio piacere perché le riconduco a un'idea che ho capito. Quindi questa è una cosa su cui non mi soffermo mai abbastanza nei miei video. Quando io vi faccio una critica, di solito la mia critica è tecnica se c'è un problema tecnico, ma come dico sempre so benissimo che magari non c'era scelta, ma la più grande critica che io faccio sempre a tutti è pensiamo a quello che stiamo facendo. Nel momento in cui io vedo che c'è un pensiero dietro a un portfolio mi faccio andare bene anche delle scelte che potrebbero essere considerate difficili su un portfolio invece privo di idee. Se un portfolio è privo di idee e faccio delle foto dove ci sono degli errori, vengono fuori molto di più, invece una foto con un errore in mezzo a tante foto che rafforzano la stessa idea, gli errori tendono a scomparire perché io tendo ad autoconvincermi vedendo che tutte le foto mi rappresentano la stessa idea con la medesima decisione. Spero di essere riuscito a farvi passare il concetto. Ma passiamo al secondo portfolio e qui ci spostiamo su Amazon Photos che è una soluzione che a me piace molto perché se abbiamo Amazon Prime lo storage è gratuito quindi possiamo caricare lì tutte le nostre foto e possiamo condividere un link quindi molti mi stanno chiedendo come facciamo a mandarti i nostri scatti. Allora se avete Instagram mi mandate un messaggio su Instagram va bene così ma se avete Amazon Prime e caricate delle foto su Amazon Photos che è gratis mi passate il link, io guardo quelle, si vedono un po' meglio e insomma è più gradevole la fruizione secondo me però non è obbligatorio insomma ognuno come vuole. Partiamo da questa prima immagine che dire mi piace, mi piace molto questa immagine. Il cielo è una favola, la silhouette è bella, posso intuire che c'è una precisa scelta di tenere i soggetti al centro personalmente io qui avrei usato la regola dei terzi però l'immagine va bene, questa è una questione di gusto. Qui andava benissimo sia tenerli al centro sia metterli a lato perché comunque funziona. Io li avrei messi a lato e li avrei messi sul lato destro perché avrei voluto vedere lei che è più alta sul sul margine più vicino al margine e lui che è più basso un pochino più centrato però questa è intenzione e gusto a foto va benissimo così com'è. Passiamo al secondo scatto qui abbiamo un bianco e nero e qui intuisco che si tratta di spettacolo. Qui a me sembra di vedere anche un contrasto molto passatemi il termine esagerato è anche una clarity forse un po' bustata e ci sta perché sul bianco e nero si tendono a fare questi questi tipi di scelte mi domando se il bianco e nero sia voluto o se sia per rimediare al fatto che durante gli spettacoli spesso ci sono delle luci che rovinano i colori delle luci troppo forti delle luci lampeggianti colorate led mica led che vanno a dare una saturazione troppo forte e io stesso mi trovo spesso a mettere quelle foto in bianco e nero per salvarle perché con quelle luci così colorate la foto diventa pesante quindi mi domando se sia una scelta o se sia una non scelta. Andiamo avanti allora qui devo dire che mi rimangono i miei dubbi perché devo dire questa è una bella foto secondo me sempre molto centrati i soggetti forse c'è un motivo forse c'erano elementi di disturbo ai lati però non mi disturba neanche questa cosa quello che noto qui è che c'è della post produzione bella prepotente che ci può stare soprattutto in foto di questo tipo quindi arte spettacolo ci sta a me qui sembra sembra sto anche guardando da uno smartphone quindi posso anche sbagliarmi però mi sembra di vedere una clarity bella calcata mi sembra di vedere un recupero sulle alte luci bello prepotente cioè mi sembra di vedere che le alte luci sono state soppresse molto o forse è stata scattata sottoesposta però mi sembra che ci sia della consapevolezza nella cosa quindi mi sta bene non lo vedo come un errore. Andiamo avanti e vedo sì mi devo confermare la mia la mia impressione perché vedete i faretti i faretti in alto quei quei tre faretti in alto vedete che la luce all'interno dei faretti non è bianca ma è cioè è grigia tendente tendente al blu perché ha una dominante blu però non è bianca quindi è stata soppressa è stata palesemente soppressa perché dei faretti così secondo me dovrebbero essere brillanti ad essere bianchi quindi il fatto che siano tendenti al grigio invece significa proprio che le alte luci sono state soppresse quindi è proprio una scelta di tenere le alte luci basse scelta che secondo me ci sta perché è uno stile e io apprezzo quando vedo uno stile usato con consapevolezza quindi in questo caso secondo me ci sta andiamo avanti qui siamo sempre sul medesimo set lo stile è sempre lo stesso è anche importante non cambiare stile tra una foto e l'altra quando si fa la medesima cosa quindi se fossero state due in un modo due in un altro invece il fatto che siano tutte con il medesimo stile secondo me è importante a questo punto mi domando chissà com'era colori la prima perché se era se aveva dei problemi ed è stata messa in bianco e nero per quello ok però è la prima cosa che mi viene da pensare quindi peccato avrei voluto vederla colori andiamo avanti vedete di nuovo che questa è molto scura vedete che è molto scura in ogni sua parte inclusi i faretti in alto e questo ti fa proprio capire che le alte luci sono state soppresse per un motivo perché si voleva ottenere un mood di questo tipo che ripeto secondo me ci sta unico difetto di questo mood è così forte che secondo me stanca molto molto in fretta quindi lo possiamo usare attenzione a non abusarne e andiamo avanti vedete proprio quei faretti in alto vedete come sono scarichi è innaturale che siano così scarichi quindi lo stile ci sta se uno ci sta a pensare secondo me l'occhio casca su questa cosa perché si vede uno che è abituato a farlo lo vede che quei faretti sono stati soppressi la foto in sé ci sta qui l'unica cosa io questa forse io qui avrei tagliato la parte sotto con la scala con quello station che non non mi aggiunge niente non mi fa particolarmente piacere vedere quella parte io quella parte l'avrei segata però a parte questo la foto ci sta andiamo avanti e vedete che questo questo sembra sembra un dipinto proprio cioè qui siamo la clarity è così è così prepotente questi questi colori sono così così soft così noir che sembra veramente un dipinto questo è apprezzabile io gradisco un tipo di stile come questo dobbiamo domandarci se era uno spettacolo un servizio retribuito e se questo era quello che voleva il cliente io spesso mi sono ritrovato a ho anche pubblicato un video di recente in cui parlo proprio di questo mi sono spesso spesso a volte in gioventù mi sono trovato a realizzare dei lavori dove avevo esagerato con la posta avevo calcato troppo la mano e le persone fotografate non si riconoscevano più non si riconoscevano più in quel momento da questo punto di vista dobbiamo sempre stare cauti quando andiamo con una posta così invasiva qui abbiamo di nuovo presumo sempre stesso spettacolo abbiamo di nuovo un bianco e nero anche qui mi domando sempre come sarebbe stata colori perché secondo me se era lo stesso spettacolo consegnarlo tutto con i medesimi parametri secondo me è meglio se possibile questo non è lo stesso spettacolo e qui in effetti vediamo che lo stile è un po' diverso qui io vedo meno clarity meno contrasto in compenso non riesco a capire dov'è che è il fuoco perché il fuoco mi sembra essere sui jeans del cantante ma non vedo bene se è a fuoco la faccia in realtà non si vede allora questa foto a me non fa impazzire vi dico perché la composizione non è male il mood non è male però io non capisco chi è sto qui non capisco che spettacolo è non capisco sia un cantante su un palco ma non capisco chi è e quindi non capisco se dovrei capire chi è mi sto sentendo ignorante io perché non capisco chi è oppure se non dovevo capire chi è in ogni caso se è una foto di spettacolo generica e quindi devo fruirla senza rendermi conto di chi era questa difficoltà nell'interpretarla mi fa un po' storcere il naso mi fa pensare che avrei voluto capire chi era o capire chi era o averlo un po' mosso in modo da in modo che fosse palese che non dovevo nemmeno domandarmelo ecco andiamo avanti questo probabilmente è sempre lui adesso capisco chi è anche se perdonatemi non me ne vogliate non lo riconosco ignoranza mia io sento solo musica dagli anni 80 indietro mi rendo conto che il contesto è complicato che ci sono oggetti che disturbano davanti cellulari mica cellulari in questo caso c'è un po di disordine cioè questa questa mano con questo telefono qui davanti io avrei cercato di evitarla e se questa era per carità capita che hai poche foto buone perché hai le prime tre canzoni per scattare poi ti mandano via se questa era l'unica foto buona va bene diciamo che avendo a disposizione una serie di foto tra cui anche altre più ordinate avrei scelto le altre più ordinate però appunto non posso saperlo ok qui andiamo avanti direi che è sempre è sempre il secondo spettacolo qui abbiamo allora io qui immagino che ci siano stati dei flash magari anche di altre persone delle luci di telefoni che si illuminavano le mani da soli quindi abbiamo le mani che vengono molto fuori e lui che rimane lì che è un po indietro so che non è un contesto facile fare foto di questo tipo anche perché questa non mi sembra una foto fatta dal pit quindi correggimi se sbaglio ma credo che queste siano foto fatte senza l'accredito quindi stando nel pubblico è difficilissimo è quasi impossibile portarsele a casa pulite però è evidente che sono state fatte nel disordine con le mani delle persone davanti quindi da questo punto di vista per me sono problematiche cioè dal punto di vista del della pubblicazione su un eventuale magazine per la live report di questo concerto sono problematiche sia perché si vede che il fotografo non scattava nel pit e quindi non era accreditato sia per il disordine che c'è davanti e quindi diventa difficile utilizzarle per un eventuale magazine che volesse pubblicarla non conosco quest'artista magari è famoso e quindi aveva altri nel pit magari non lo è quindi voleva magari mandare le sue però diventa problematico nel momento in cui abbiamo questo disordine davanti tutte queste mani davanti quindi il mio consiglio lì ovviamente è di farsi accreditare se si riesce ci si fa accreditare così si scatta sereni senza dover pensare a evitare le mani degli altri perché creano veramente un problema anche dopo magari una webzine vorrebbe pubblicarci le immagini però poi ce le scarta perché c'è disordine non si rende bene l'artista quindi è un problema secondo me facendoci accreditare lo risolviamo un po' questo problema molto bene questa era l'ultima immagine di questo portfolio ora devo dire che c'erano due link però in questo caso prendo in considerazione solamente quelle che ho capito essere le immagini post prodotte perché poi c'era un secondo link con le immagini grezze ma io voglio vedere l'esito finale voglio vedere quella che era l'intenzione quindi come sono state scattate mi interessa poco se voi avete fatto una foto fatta male però poi l'avete pastrugnata ed è venuto fuori un capolavoro a me interessa vedere che cosa è venuto fuori non tanto come l'avete fatta perché tanto poi se l'avete fatta nella maniera più sbagliata del mondo se è venuta fuori la foto più sbagliata del mondo me ne accorgo se è venuta fuori che funziona a me va bene non mi interessa come è stata scattata ma mi interessa proprio neanche come è venuta fuori mi interessa l'intenzione che ci avete messo mi interessa capire cosa stavate cercando di fare per cui a questo portfolio che poi è è un segmento perché questo non è portfolio completo di questo fotografo è semplicemente una porzione dove abbiamo visto delle foto di spettacolo secondo me la maggior parte delle foto sono buone la post produzione l'intenzione nella post produzione è buona le cose su cui lavorare secondo me sono due cercare di uniformare un pochino quindi non tra spettacolo e spettacolo ma nello stesso spettacolo secondo me se nello stesso spettacolo riusciamo a fornire un lavoro unitario con un'intenzione unica quindi non dico con gli stessi identici parametri però con parametri che vadano bene insieme io dovrei poter mettere le foto tutte di fianco su due paginone di un magazine e non dovrei vedere non dovrei fare cerca l'intruso tutte foto a colori con due in bianco e nero lì a me scatta subito il cerca l'intruso quindi vorrei vedere uniformità da questo punto di vista è una fisima mia perché poi ho lavorato anche per dei magazine quindi preferisco quando ho quest'uniformità e la seconda cosa è in certi contesti soprattutto di spettacolo io mi rendo conto che non è sempre possibile farsi accreditare mi rendo conto che certe volte si scatta un po come si può lì abbiamo tutte le difficoltà del caso anche nel post shooting perché se facciamo fatica a scattare le foto con quel tipo di contesto con le persone davanti con una mano davanti con un cellulare davanti con la gibigiana di un flash che parte da un'altra parte avremo un contesto disordinato che sarà scarsamente appetibile sia per l'artista che per eventuali magazine che potrebbero volerci pubblicare quindi in quel caso io consiglio o di farsi accreditare o se no di farsi furbi e di trovarsi una posizione sopraelevata se possibile o insomma di inventarsi qualcosa di mettersi da una parte in modo da trovarsi un'angolazione pulita o di mettersi in prima fila di andare lì alle 6 del mattino per avere la prima fila insomma di scogitare qualcosa per risolvere quella situazione di disordine perché può essere bella nel senso che ti fa capire la comunione il concerto l'evento iea però nel momento in cui le devi dare a un magazine o all'artista stesso che magari te le vuole ripostare quello può diventare un problema quindi le mie critiche principali sono queste benissimo ma non ci fermiamo mai e passiamo a un altro account ancora allora qui abbiamo un selfie commemorativo e qui vecchie glorie over 35 si abbiamo abbiamo vinto una medaglia questa te la commento perché è simpatica però qui non stiamo giudicando la foto è semplicemente un momento così allora andiamo alla prima foto che possiamo effettivamente apprezzare per la tecnica e l'intenzione qui abbiamo semplicemente buskers allora io non conosco l'artista in questione magari è famosissimo ma io come detto sono rimasto negli anni 80 qui abbiamo una cosa che a me di solito non piace perché desaturare una parte dell'immagine un po l'effetto sin city come lo chiamo io è una cosa che mi è piaciuta da matti quando l'ha fatto sin city mi ha stufato sette minuti dopo quindi io non la faccio più cerco di non farla più non la propongo mai mi sembra sempre un po un po forzata in questo caso secondo me funziona perché qui ti aiuta proprio a dire a capire qual è il soggetto il soggetto è quello lì non c'era abbastanza separazione magari devo fare una postilla io so con cosa sta scattando questo fotografo quindi sapendo con cosa sta scattando probabilmente immagino che non potesse staccare da quella distanza non poteva staccare più di tanto il soggetto dallo sfondo non poteva sfocare più di tanto con l'attrezzatura che che so che ha quindi sicuramente ha fatto quello che poteva per staccarlo il più possibile ma più di tanto non era possibile quindi se l'è cavata in questo modo devo dire in questo caso secondo me funziona l'unica cosa ma queste sono proprio questi sono i rimasugli di quando fai i corsi di fotografia che poi ti rimangono ste robe io avrei voluto il contrario cioè avrei voluto che lui avesse il viso rivolto dall'altra parte quindi chiedesse la schiena all'angolo più vicino e che avesse il viso verso l'angolo vuoto per una questione di 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 spazio di spazio intorno alla testa per far vagare lo sguardo perché così lo vedo un po costretto però a parte questo e posso presumere che se non è stato fatto perché c'era un elemento di disturbo da quella parte quindi posso immaginare che il motivo fosse fondamentalmente questo andiamo avanti qui c'è un disegno questo non posso giudicarlo perché io non sono disegnatore allora qui non carica il maledetto qui abbiamo un cruscotto di un'automobile a cosa sto pensando che fa caldino guarda figurati se non ti capisco questa non posso giudicarla perché è una foto simpatica non è una foto da 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 giudicare ecco qui abbiamo dei simpatici giochi di anelli complicato queste sono queste sono degli astratti praticamente sono esperimenti che ho fatto anch'io ovviamente che però raccontano poco quindi sono esperimenti che possiamo fare e li possiamo anche pubblicare perché perché no ci stanno e otteniamo anche dei pareri sono si intuisce cosa sono beh allora il primo mi sembra una mi sembra una catena mi sembrano degli anelli di una catena un po arrugginita il secondo non lo so potrebbe essere un lucchetto non lo so starò dicendo delle stupidate mi sembra mi sembra metallo comunque potrebbe no aspetta aspetta potrebbe essere un bicchiere visto attraverso un altro bicchiere ora che ci penso sono esperimenti interessanti però raccontano molto poco quindi facciamo tutti gli esperimenti che vogliamo però raccontano poco quindi io vorrei vedere un po più di racconto ecco questa mi piace di più pattern olio cos'è olio sull'acqua bianco e nero questo questo mi piace anche questa non racconta niente però pattern chiaro scuro questa mi piace colpo d'occhio bella qui abbiamo della natura qui abbiamo di nuovo della natura questo è un girasole sì infatti qui abbiamo gessetti sì questa è evocativa qui abbiamo uno dei maestri presenti stamattina occhio bello devo dire che questa non è male perché comunque quando si fanno dei ritratti con dei visi vissuti a me piace sempre questa cosa qui abbiamo un costruttore questa allora io qui non sono d'accordissimo sul bianco e nero perché secondo me questa funzionava anche a colori e perché non mi sembra che il bianco e nero gli stia dando chissà cosa in più magari mi sbaglio magari a colori risultava peggiore quindi il bianco e nero gli ha dato un qualcosina in più però io quasi l'avrei lasciata a colori qui abbiamo dell'architettura allora architettura tutto bianco e nero direi che ci sta io avrei raddrizzato queste linee io qui avrei provato a raddrizzare qualcosina questa stava bene qui io avrei provato a centrare un pochino meglio queste finestre però faccio veramente il pignolo perché mi rendo conto che è una chiesa diroccata quindi non è che si poteva pretendere la non è non è non sarà neanche dritta sarà tutta un po storta c'è una cosa che mi perplime questa te la dico qui io se vado a zoomare vedi che c'è il dettaglio la prima che è stata messa se io vado a zoomare il dettaglio non c'è perché mi domando perché perché è un peccato e la risposta che mi do è magari la prima foto è antica è stata fatta un sacco di tempo fa ed è storica introvabile quindi è stata messa per prima nonostante sia rovinata mentre le altre sono di adesso sono recenti e quindi sono un pochettino più nitide peccato però mettere quella rovinata per prima perché mi guasta un po l'esperienza di visione qui abbiamo un altro bianco e nero questa probabilmente potrebbe essere lo stesso posto perché una porta di un locale diroccato sì insomma ci sono dei chiaroscuri bisogna sempre stare attenti col bianco e nero perché il bianco e nero secondo me funziona quando abbiamo dei contrasti molto forti e qui non li ravviso così tanto secondo me si poteva ragionare di più sulla composizione per far venire fuori maggiormente questi contrasti scelte minime variazioni minime per dare più peso più enfasi ai contrasti che avremmo voluto avere nel bianco e nero andiamo avanti qui abbiamo un paio di ritratti e questi sembrano momenti spontanei con dei bei sorrisi allora a questo punto io direi mi fermo qui perché come detto non guardiamo tutte le foto di tutti quanti i fotografi che ci sottopongono il materiale qui io me la sento di dire vedo una bella volontà di fare ricerca e sperimentazione una cosa mi viene da dire soprattutto sul bianco e nero secondo me si può fare un lavoro di ricerca sulla composizione e secondo me questo lavoro può essere molto agevolato dal fatto di impostare la fotocamera in bianco e nero perché su molte fotocamere soprattutto adesso quelle nuove mirrorless eccetera noi possiamo impostare la macchina mettendo un profilo colore bianco e nero che ci permette la maggior parte delle volte di vedere in bianco e nero già sul display vedere come verrà la foto in bianco e nero ci aiuta a capire come pensare in bianco e nero perché quando noi ragioniamo in bianco e nero non dobbiamo più fare la foto come siamo abituati dobbiamo cercare di immaginarci che quello che stiamo cercando è contrasto non è più colore non è più neanche forma secondo me solamente contrasto e composizione e se ragioniamo in questo modo secondo me riusciamo a tirare fuori delle composizioni che valorizzino il contrasto che vogliamo rendere in bianco e nero ovviamente dobbiamo sapere prima che le vorremmo mettere in bianco e nero perché se le abbiamo fatte senza sapere che sarebbero state messe in bianco e nero e abbiamo deciso dopo di metterle in bianco e nero lì io non sono favorevole all'utilizzo del bianco e nero perché non è quello secondo me il modo di usarlo a parte questo ci vedo comunque una bella ricerca una bella voglia di sperimentare perché con quegli quegli abstract quelle quelle texture quelle pattern che ho fatto anch'io quindi è giusta la strada è giusta bisogna cercare secondo me di mettere anche quello al servizio di un racconto quindi se noi riusciamo a incapsulare una pattern per incorniciare un'altra cosa per incorniciare il nostro racconto quello che vogliamo raccontare ecco che la fotografia spicca il volo e prende un significato più alto per lo meno di quello che io riesco a vederci perché poi io vi dico la mia magari queste foto racchiudono degli attimi particolari che però io non conosco per renderli palesi secondo me sommare piani sommare campi mettere dentro più cose più tecniche può essere la strada giusta molto bene passiamo al prossimo portfolio google photos devo dire che mi state sorprendendo utilizzando tantissimi portali diversi per mandarmi i vostri materiali quindi vediamo l'ennesima piattaforma qui devo dire si vede abbastanza bene mi sembra mi sembra migliore di instagram ma qualunque cosa per me migliore di instagram quindi allora qui abbiamo una bella visione orizzontalona di questo castello con un belle nuvole sopra allora qui vi dico subito cose che non mi fanno impazzire il castello mi sembra storto probabilmente è storto davvero ma io lo raddrizzerei io lo raddrizzerei comunque perché io nella mia foto vorrei vederlo dritto anche se nella realtà è storto non me ne frega niente per il resto mi sembra che le nuvole siano a posto mi sembra che ci sia un bel contrasto forse io avrei preso più cielo e meno nuvole abbassando un pochettino la linea dell'orizzonte però insomma magari c'erano degli impedimenti tutto sommato mi sembra che la foto vada bene così come seconda immagine qui abbiamo una cascata qui mi sembra che ci sia della post produzione bella pesante perché e correggimi se sbaglio a me questa sembra una foto diurna e mi sembra magari è notturna questa è la luce della luna però mi sembra una foto diurna e per essere una foto diurna è molto scura quindi probabilmente filtri filtri nd e io so benissimo che i filtri nd alterano anche i colori perché non sono proprio sempre neutri a seconda di quanto li abbiamo pagati introducono del colore a volte anche in maniera pesante quindi mi domando se questa tinta che mi sembra di vedere un po' blu un po' verde mi domando se sia il filtro o se sia voluta nella post produzione andiamo avanti e qui abbiamo una scena di montagna con un bel cielo e qui mi domando se sia stato usato un filtro graduato per fare il cielo in questa maniera nel caso apprezzerei molto perché denota una ricerca anche se qui devo dire questa roccia in primo piano non la conosco magari è famosissima non mi dà tantissime emozioni quindi mi piace il cielo apprezzo lo sforzo di mettere questa roccia in primo piano però non mi dà tantissima emozione vederla lì così perché è una cosa mia non mi emoziona particolarmente questa questa prospettiva l'immagine va bene io forse avevi provato a scattare un po più dall'alto maniera tale da avere questa roccia un po più in basso e vedere un pochettino la spianata delle montagne po boi è una roba mia andiamo avanti qui abbiamo un monastero sembrerebbe con una testa di gargoyle davanti la composizione ci sta mi domando se sia stato fatto un focus stacking per avere tutto quanto a fuoco oppure se è stata usata l'iperfocale o altre tecniche mi pare di vedere che la punta di questo campanile sia scura e quindi qui correggetemi se sbaglio ma sono quasi certo che sia stato usato un filtro graduato per scurire il cielo in alto è stata giustamente scurita anche la punta del campanile vedo comunque che c'è una ricerca anche qui mi sembra di vedere che le mura di questa struttura non sono drittissime anche qui io le avrei raddrizzate anche se erano storte davvero io le avrei raddrizzate qui abbiamo un bel laghetto anche qui secondo me filtri anche qua sono un po scure devo dire sono tutte un po scure però mi sembra uno stile mi sembra voluto quindi quando la cosa è voluta non ho tanto da dire qui c'è un effetto seta con la luce del giorno quindi anche qui sicuramente filtri per ottenere questo effetto scene di montagna qui questo forse addirittura un ultra un ultra wide forse un fisheye addirittura non conosco la montagna quindi non so dire allora fondamentalmente qui abbiamo un portfolio di scene di montagna che secondo me funzionano la cosa che possiamo dire di questo portfolio è è abbastanza personale ci sono delle scelte soprattutto di pre e post produzione abbastanza personali perché secondo me con questi filtri c'è un chiaro intento di andare verso la lunga esposizione e non so se siano questi filtri che danno quella colorazione o se sia la post però il risultato è abbastanza personale quindi l'importante è che sia voluto perché nel momento in cui una cosa è personale particolare ma voluta allora ci stava sempre bene l'importante è che non sia venuto fuori per caso e che non sia venuto fuori senza la consapevolezza di quello che si stava facendo perché queste scene a mio parere certe volte risultano poco naturali all'occhio cioè si vede che ci sono dei processi dietro delle lavorazioni si vede che non è la scena come la percepivo con gli occhi quindi l'importante è aver voluto ottenere questo effetto per il resto secondo me queste immagini vanno assolutamente bene e sono anche in qualche modo coerenti fra loro ok veniamo a un portfolio che ero curioso di vedere perché ne avevamo parlato e quindi io ero curioso di vedere queste immagini e qui siamo di nuovo in toscana di nuovo in un posto bellissimo che io ho visitato e qui abbiamo delle immagini io sono anche stato in questi posti qui abbiamo delle immagini secondo me notevoli perché non è facile per niente fare queste cose allora soffermiamoci un attimo su queste astrofotografia a me piace tantissimo però sono un teorico puro perché non l'ho mai fatta perché a milano non ci sono le stelle non si riesce e non ho mai non sono mai riuscito a organizzarmi per andare a farlo bene quindi mi manca questa cosa per cui io qui posso parlare posso dire mi piace o non mi piace ma la verità è che io non l'ho mai fatto quindi in teoria non lo so fare e quindi dovrei solamente starmene zitto in questo caso queste immagini a me piacciono mi sembrano grezze correggimi se sbaglio ma mi sembra perché ho visto i lavori che hai pubblicato poi su instagram queste mi sembrano ancora grezze infatti vedo cr2 quindi questi sono i raw probabilmente sicuramente da queste si riescono a tirare fuori delle gran belle cose e sicuramente sommandole andando a utilizzare più tecniche si riescono a tirare fuori le cose che poi posti effettivamente qui abbiamo bel contrasto albero scuro contro la neve questa sì che ci stava in bianco e nero perché qui c'è un contrasto che è una manata bestiale ecco queste robe qua io di fronte a questa mi levo il cappello perché io non l'ho mai fatta questa roba so come si fa ho studiato lo so come si fa sulla carta ma non l'ho mai fatto e quindi quando vedo qualcuno che lo fa dico miseria bravo bella anche qui l'unica cosa io raddrizzerei la chiesetta perché non mi piace vedere le cose storte in quella maniera lì proprio non ce la faccio sono un fotografo di interni mi dà fastidio vedere le robe storte mi domando come reagirebbe la stellata con la chiesa raddrizzata quindi forse la si lascia così per questo motivo però non lo so sarei curioso di vederla anche raddrizzata qui di nuovo è queste cose per me questa roba qui è spettacolare l'astrofotografia è bellissima in questo caso qui non oso neanche immaginare quanto tempo ci voglia per ricavare delle scie come queste perché ci vorranno non lo so minuti ore ecco guardate questo è molto interessante perché qui abbiamo un suppongo un prima e un dopo e qui vi rendete conto del lavoro che c'è dietro per tirare fuori luci colori e contrasti secondo me molto bello poi il posto merita però sicuramente beh qui abbiamo un'altra tecnica ancora simile ma diversa vi rendete conto di quanta ricerca di quanta cura c'è per ottenere un'immagine come questa che può piacere o non piacere ma è difficile da fare queste sono robe maledettamente tecniche e uno può essere fortunato e imparare così per i fatti suoi oppure può sbatterci la faccia e studiarla per tutta la vita senza mai riuscire a ottenere esattamente quello che voleva io sono da un lato invidioso da un altro ammirato perché vorrei farle anche io queste cose prima o poi le faccio non vi illudete prima o poi le faccio ma ancora non ci sono riuscito e quindi quando vedo una cosa del genere tanta roba cioè posso posso non apprezzare in particolare determinati angoli e determinate cose tipo le linee storte o cose del genere che però si possono correggere dopo e magari viene anche fatto ci sono cose che posso non gradire però di fronte a una foto come questa che è comunque tecnica io sono contento ecco guardate qua guardate che spettacolo io conosco molto bene questo posto fare una stellata così con con i circoli sopra una composizione di questo tipo con questa luce mista strana che forse arriva chissà da dove fare delle auto non lo so neanche insomma io credo che sia molto appagante stare lì nella natura al silenzio di notte con i grilli fare una cosa del genere secondo me è bello c'è della poesia in tutto ciò anche questa cioè guardate che roba complicatissima qui abbiamo delle scie delle stelle abbiamo quello che mi sembra essere un satellite che pulsa quindi con una luce pulsata che è diversa da quella delle stelle o un satellite un aereo non so cosa cioè è complicata questa roba è complicata io quando vedo una roba complicata mi emoziono qui bellissimo non riesco a capire cosa sono queste lucine verdi forse sono lucciole addirittura abbiamo un cielo stellato con un faro e con delle lucciole verdi che sono passate davanti e hanno lasciato quelle scie bello bello è poesia cioè io qui ci vedo ci vedo van gogh ci vedo la notte stellata è figo è bella questa cosa qui poi cioè figuriamoci queste robe io impazzisco qui abbiamo urbex perché è una struttura che sembra abbandonata abbiamo architettura simmetria e la stellata fuori cioè spettacolo secondo me questa roba ripeto può piacere non piacere e io posso anche non apprezzare tutte le scelte stilistiche messe in atto però io quando vedo una roba del genere non posso non apprezzare perché comunque qui per fare una roba del genere questo si è fatto un mazzo così bene io credo che questa fosse l'ultima foto per cui ci fermiamo qui anche per questo portfolio ovviamente la critica che possiamo fare a questo portfolio è che è poco vario però qui credo che abbiamo anche a che fare con un fotografo che fa proprio quello cioè qui abbiamo a che fare con un portfolio di astrofotografia di natura in particolare in toscana e cipressi e stelle in particolare o architettura e stelle quindi sono cose abbastanza c'è un indirizzo ben preciso io non me la sento di contestargli che è poco vario perché di fronte a un lavoro del genere con una sua coerenza con un percorso che è stato fatto io mi levo semplicemente il cappello di fronte a uno che si è fatto probabilmente le notti lì per catturare quelle immagini una cosa che io non ho mai fatto un po' perché mi è mancata l'occasione ma un po' perché sono pigro e quindi di fronte a uno che invece l'ha fatto io mi levo il cappello che ho lasciato di like quindi no no ma me lo levo sappiate che me lo levo bene amici sono contento se qualcuno di voi è riuscito ad arrivare fin qui perché mi rendo conto che questi contenuti sono titanici sono lunghissimi sono lunghi per me da girare sono lunghi per me da montare sono lunghi per voi da guardare ma siccome io ho fatto la fatica due volte guardateveli fino alla fine scherzi a parte mi fa piacere se tante persone hanno seguito fin qui io vi chiedo a questo punto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutti gli possiamo chiamarli artisti che ci hanno sottoposto oggi loro materiali a me non piace la parola artisti però quando vedo impegno quando vedo ricerca nel cercare angolazioni nella composizione la post produzione mettere il colore sul bianco e nero per cercare di capire come funzionano le cose io quando vedo qualcuno che sta facendo cose che magari ho già fatto anch'io anni fa è bello è bello perché vedo gente che magari sta rifacendo i miei stessi errori ma arriverà alle mie non stesse ma arriverà delle conclusioni per cui saprà che certe cose funzionano certe altre no e quindi avrà fatto un percorso e saprà come comportarsi quando ricapita in quella situazione e tutto questo è il magico viaggio nel mondo della fotografia fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate nei commenti io vi aspetto cercherò di rispondere a tutti mi raccomando scrivetemi qui nei commenti piuttosto che per mail piuttosto che su instagram perché per mail su instagram io leggo ma leggo due settimane dopo quindi se volete una risposta puntuale scrivetemi su youtube se volete una risposta fra due settimane mandatemi pure una mail mandatemi pure un messaggio su instagram che poi finisce in spam quindi li recupero una volta ogni dieci giorni però occhio perché non vi rispondo subito lì perché non leggo quindi se volete una risposta celere qui sotto nei commenti detto questo io sono felice di aver passato un po del mio tempo con voi e vi do appuntamento al prossimo video